Un saluto a tutti i lettori di Telefonino.net, Mobile World Congress, siamo allo stand di Asus, questa è la gamma Zenfone. Abbiamo lo Zenfone 4, il 5 e il 6. Lo Zenfone 4 ha un processore Intel Atom Z2520 da 1.2 GHz ed è basato su Android in versione 4.3 che sarà aggiornata nei prossimi mesi alla 4.4 KitKat ed offre l'interfaccia utente Asus ZenUI che è un'interfaccia semplificata con icone grandi e anche la possibilità di vedere sulla home screen quando è bloccata quelli che sono i nostri prossimi appuntamenti. Per quanto riguarda invece le caratteristiche hardware, questo smartphone ha un'altezza di 124.42 mm per una larghezza di 61.44 per uno spessore variabile da 6.3 a 11.2 mm, il peso è di soli 115 grammi. La fotocamera posteriore, quella principale è da 5 megapixel mentre quella anteriore è da 0.3 megapixel. Il display è un TFT con disoluzione di 800 per 480 pixel ed la parte anteriore è protetta da un vetro Gorilla Glass 3 della Corning. Per quanto riguarda invece la memoria, abbiamo un gigabyte di memoria RAM e abbiamo 8 gigabyte di memoria integrata che può essere espansa tramite la microSD. La connettività è abbastanza completa, abbiamo il supporto sia alle TGS-M, GPRS ed Edge, sia alle THS-PA Plus e al UMTS in quattro bandi. Abbiamo poi il Wi-Fi 802.11 BGN, Wi-Fi Direct e Bluetooth 4.0. Passiamo adesso allo Zenfone 5, sempre processore, abbiamo un processore Z2580 da 2 GHz, sempre qui anche Android 4.3 con interfaccia utente ZenUI, abbiamo 1 gigabyte di memoria RAM, abbiamo 8-16 gigabyte di memoria integrata espandibile, abbiamo un display che ha un diagonale da 5 pollici e un TFT a LED con una risoluzione di 1280x720 pixel. Anche questo Zenfone 5 ha la parte anteriore che è protetta da un vetro Gorilla Glass 3 della Corning. La fotocamera posteriore è da 8 megapixel con tecnologia Pixel Master che permette di fare delle foto fino al 400% più luminose, anche dei video più luminosi in condizioni di scarsa luminosità. Abbiamo invece la fotocamera anteriore che è una 2 megapixel. La batteria è da 2100 mAh e di tipo removibile. Le dimensioni invece sono di 148.2 x 72.8 x 5.5 mm di spessore fino ai 10.34 mm di spessore nella parte centrale. Il peso è di 145 grammi. Passiamo infine allo Zenfone 6, è un phablet, abbiamo infatti una diagonale di 6 pollici, sempre un IPS con risoluzione HD da 1280x720 pixel. Anche qui Gorilla Glass 3 della Corning. Processore Intel Atom Z2580 a 2 GHz. Android 4.3 aggiornabile alla 4.4 KitKat con interfaccia utente Asus Zen UI. Per quanto riguarda invece la memoria, abbiamo 2 GB di memoria RAM, abbiamo 8-16 GB di memoria integrata espandibile tramite microSD. Abbiamo poi il supporto alle reti GSM e GPRS Edge, HSPA Plus e due MTS in quattro bande. Per quanto riguarda invece la fotocamera posteriore abbiamo una 13 megapixel, sempre con tecnologia Pixel Master, mentre la fotocamera anteriore è da 2 megapixel. Le dimensioni sono di 166.9 x 84.3 x 5.5 mm nella parte più sottile e 9.9 mm di spessore nella sua parte centrale. Il peso è di 196 grammi.